La Giunta regionale ha assunto oggi una deliberazione di notevole importanza per la programmazione sanitaria in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in tema di reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Con l'approvazione della relativa delibera è stato definito anche il quadro degli investimenti. Il piano è stato presentato durante una conferenza stampa alla presenza del Governatore Francesco Acquaroli, del Vice Presidente Mirco Carloni e degli Assessori Filippo Saltamartini, Francesco Baldelli, Stefano Aguzzi e Guido Castelli. Io credo che le polemiche, le critiche, il dibattito siano normali in questa fase anche perché ci sono tante risorse ma a fronte di tante risorse ci sono tantissime richieste di un territorio che negli anni ha mostrato molte criticità proprio in questo aspetto cioè nella risposta dei territori. Quindi quelle sono normali però questa è una prima grandissima risposta a cui dovranno sommarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni interventi che vanno a completare e a definire questa cornice. Dobbiamo assolutamente subito studiare delle soluzioni affinché i medici di medicina territoriale, i medici di medicina generale, i pronti soccorsi e tutti gli altri ambiti vengano coperti in maniera adeguata. Diciamo che con questi interventi il cambio di passo è del tutto evidente, si passa da una sanità baricentrica ad una sanità che garantisce il diritto alla salute su tutto il nostro territorio, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra, tra grandi e piccoli centri. 923 milioni di investimenti che prevedono tra quelli più importanti anche le edificazioni di nuovi ospedali come quello di Pesaro, di Macerata e di San Benedetto del Tronto ma il cambio di passo si vede anche nella costruzione di sei nuove palazzine, penso a quella di Urbino, a quella di Fano, a quella di Senigallia, a quella di Fabriano, a quella di Civitanova a Marche o di Ascoli Piceno. Ossia sono palazzine che saranno destinati a gestire le emergenze e urgenze nei nostri ospedali. Palazzine e ospedali alla terza del terzo millennio. Perché questo? Perché abbiamo trovato una situazione edilizia ospedaliera che gridava vendetta. Io ho su dire in alcune zone del nostro territorio di tipo medievale. In un anno abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti, l'edilizia sanitaria e ospedaliera si è confrontata con i colleghi, con il collega della sanità e con la direzione dell'Asur e dell'azienda ospedaliere e oggi abbiamo presentato questo grande piano che cambia la sanità della nostra regione. Le case della comunità sono un'evoluzione moderna delle case della salute. È l'idea del governo a livello nazionale per sopperire alla carenza di servizi sul territorio e principalmente anche alla carenza di medici. Cosa sono le case di comunità? Sono il raggruppamento di tutti i servizi territoriali composti dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle adi, dagli infermieri di famiglia, dai sociologi, psicologi e così via. In effetti il contratto collettivo nazionale di lavoro che si sta rinnovando per la medicina generale prevede un'ipotesi di far trascorrere almeno 20 ore del servizio dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Quindi le case di comunità rappresentano un po' la struttura insieme alla telemedicina, insieme alla teleconferenza, insieme a tutto ciò che di digitale può essere utilizzato nella sanità compresa dell'intelligenza artificiale per dare appunto ai cittadini un servizio di immediatezza. Il Covid ci ha insegnato che cosa? Che oltre i medici di medicina generale ai pediatri c'erano i pronti soccorsi. Le persone hanno intasato il pronto soccorso e gli ospedali per acuti e si è accertato che c'è questa carenza appunto di prossimità e di servizi primari. Teniamo conto che questo è avvenuto nel nostro Paese di fronte, se mi è consentito, ad una nostra intuizione perché quando nella campagna elettorale del 20 il centrodestra aveva detto no agli ospedali unici ma facciamo la medicina di prossimità, ecco questo è ciò che poi è stato corroborato dal Covid, quindi in questa direzione si sta spostando il governo e in quella direzione si sta muovendo la sanità regionale.